Ciao a tutti sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Lulu Selassie, l'ex GFina pubblica una foto sui social davvero bollente. L'immagine in lingerie conquista i fans, e spunta un commento inaspettato. Continua la querella a distanza tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie. L'ex nuotatore e la princess, si erano fidanzati durante la loro avventura in comune nella casa del grande fratello. I due, dopo un rapporto altalenante, sembravano avere trovato la serenità. Dopo l'uscita dalla casa di Manuel Bortuzzo, che aveva deciso di non continuare la sua avventura, la coppa si era sempre mostrata innamorata e aveva promesso di ritrovarsi fuori una volta finito il programma. Una promessa mantenuta, ma solo in parte. Lulu è infatti arrivata sino alla finale, e ad attenderla all'uscita dalla casa più spiata d'Italia c'era proprio Manuel. La relazione, però, è naufragata poco tempo dopo, ad annunciarlo era stato proprio Bortuzzo, con un freddo comunicato che aveva scatenato la reazione della Selassie. La princess ha accusato l'ex fidanzato di avere saputo della rottura solo tramite comunciato, e ha svelato quelli che a suo dire sono stati i motivi dietro la decisione. Secondo la Selassie, la famiglia Bortuzzo non l'avrebbe mai gradita troppo e sarebbero stati proprio loro ad influenzare il ragazzo e a fare naufragare la storia. Il padre di Manuel, in particolare, sarebbe stato secondo Lulu molto invadente durante la loro storia. Dalla rottura, i rapporti tra Manuel e Lulu sono rimasti piuttosto tesi, sino all'ultima polemica nata sui social che non è sfuggita all'occhio attento dei fans. Lulu Selassie, foto sensuale sui social, la reazione di Bortuzzo e il commento che non ti aspetti. Infatti ha postato sui suoi social un'immagine davvero bollente che la ritrae in lingerie sul letto dell'albergo. Come fatto notare dal vicolo delle news, la reazione di Bortuzzo non si sarebbe fatta attendere. Il nuotatore avrebbe eliminato delle foto dai suoi social dove era presente anche la princess, altre le aveva già tolte in precedenza all'indomani della rottura, e avrebbe cancellato diversi commenti lasciati a suo tempo sotto le foto dell'allora fidanzata. Ha tolto inoltre alcuni tag alle pagine di coppia. Che sia un ulteriore modo di prendere le distanze dalla Selassie? Alcuni sono convinti di sì, altri invece pensano che il gesto sia una reazione gelosa alla foto, bollente, dell'ex fidanzata, che ha ricevuto diversi commenti, tra cui uno decisamente inaspettato. Tra i commenti è spuntato infatti anche quello di Baruga e Tani. Mi sto solo rilassando con il mio cagnolino, ha scritto ridendo l'ex GFino. Lulu ha subito replicato, you amore, mi manchi. L'interazione ha scatenato non poche critiche. Non solo per la grande differenza tra i due, in tanti hanno criticato l'eccessiva confidenza dell'uomo verso la ragazza, di 17 anni più giovane, ma anche perché Baru è stato a lungo corteggiato da Jessica Selassie, sorella di Lulu. Il GF e le sue dinamiche, insomma, continuano anche a mesi dalla sua fine. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.